Salve a tutti, siamo qui sul sito di LifeMiner per vedere quanto sia incredibilmente semplice ritirare i soldi. Vedete, noi in fase di impostazioni abbiamo messo già la stringa dove vogliamo essere spedito questi soldi, quindi abbiamo cliccato qui, abbiamo scritto la singla, abbiamo detto salva le impostazioni. Una volta salvate le impostazioni, la stringa è archivata, non abbiamo più problemi, non abbiamo più nessun fastidio. Quando abbiamo più di 15 dollari, li vediamo scritti qua sopra disponibili per il prelievo, io ho già ritirato 731 dollari con 2-300 dollari, dopodiché ho preso e ho messo altri 500, quindi adesso avevo 250 dollari di contratti attivi, sono arrivato a 750. mi sono arrivati 29 dollari, parte del mining e parte di acceleratori che danno i soldi ancora del mio mining, ma più velocemente. Di tutto quello che metto devo avere 5 volte tanto, quindi di quello che ho inserito fino adesso devo avere circa, sono 1050 dollari, complessivamente devo averne 5.000 e passa, 5.050 e se sommiamo questi due numeri dovremo trovarci. Quindi tornando a noi, nel momento in cui ci sono più di 15 dollari qua sotto, basta che clicchiamo, dobbiamo fare un prelievo, basta, lo dice la parola stessa, basta che clicchiamo su prelievi, dopodiché lui mi dice disponibile il prelievo 29,39, io clicco qua e copio 29,39, lui mi converte in automatico il fatto del punto perché questa, diciamo, usa la notazione, ma me lo converte lui, in realtà lui lavora in inglese e c'è qua italiano, quindi è tutto tradotto stesso da Google, dicendo italiano, clicco prelievi, lui dice conferma e aspetta, clicco conferma e aspetta, con successo, dopodiché io in generale mi faccio anche lo screenshot di quello che ho copiato, che ho ritenuto, così da tenere tutto quanto sistematicamente sempre archiviato, quindi mi scrivo che questa è la farma mia, quindi dico modifica, metti un testo, e quindi lo prendo e lo metto qua e me lo mando su Telegram dove voglio mandarlo. quindi fatto questo, praticamente abbiamo fatto tutto, non è assolutamente, in realtà mi sono fatto una cosa dove mi metto tutte le notazioni di LifeBinder, e quindi ecco l'ho fatto, ho mandato. A questo punto clicco ok, diciamo in questo momento avevo 731 già caricati, 29 disponibili, disponibili, 0 inaugurazione per il ritiro, quando clicco ok, automaticamente lui mi crea anche il filtro, lui dico basta solo che clicco applica il filtro, lui già me l'ha preimpostato per vedere solo i prelievi, chiudo e guardo tutti i prelievi. Praticamente posso vedere che ho fatto l'ultimo prelievo il giorno 20, e ne ho fatto in faccia adesso un altro il giorno 22. Come vedete, praticamente ogni due giorni io posso prelevare. Praticità, una richiesta e un completamento. Ho richiesto alle 9.12 e si è completato alle 14.55. Magari invece il giorno 17, tre giorni prima, ho richiesto il 17 e si è completato alle 19. Come vedete, questi prelievi sono un sistema di gente sempre più alti, perché cresce sempre di più. Questi sono ancora, diciamo, quelli precedenti, ancora quelli precedenti, fino al primo prelievo, che era il giorno stesso che sono entrato. Sono entrato il giorno 3 novembre, il giorno stesso ho voluto prelevare 75 dollari, perché c'era un bonus a biorapido che ho ricevuto sulla canzone fatta mia moglie, e quindi ovviamente ho prelevato il giorno stesso dell'ingresso, mezz'ora dopo essere entrato, già potevo prelevare. Già sono andato, mezz'ora dopo, già sono andato al 5 per, e quindi praticamente, insomma, sono partito con tutte le grandi opportunità di LifeMinders già attive. Ah, questo non vuol dire che non devi partire, sono partito con 200 dollari, non puoi partire anche con meno. La cosa migliore in generale è partire con 300 dollari, io ho provato a partire con solo 200, sul mio account, e ho messo più soldi a mia moglie perché volevo arrivare al 500, quindi ho fatto in modo tale che tra promozioni e al momento attive e soldi che mettevo, arrivassi a 1000 dollari su mia moglie per andare subito al 500%, e sperimentare questa cosa incredibile che mi sembrava troppo bella per essere vera, e volevo verificare che fosse così. e ho avuto modo di poterlo già verificare più volte. Quando io ho messo, ho comprato un pacchetto di mining, questo è un crowdfunding, automaticamente loro mi danno i soldi e tutto quello che mi arriva in più di acceleratori me lo calcolano sul primo pacchetto in ordine di tempo. Quando questo pacchetto si è esaurito, tutti quelli che già ho messo, io ho messo 1.050 dollari, quindi 300 dollari già si sono esauriti, infatti ho avuto 761 dollari, automaticamente loro man mano lo caricano, lo carico, qua 50 dollari, devo averne il doppio, devo averne 100, quando si esaurisce me lo levano proprio, e quindi io vedo quelli là non esauriti. Dopo quest'ultimo da 50, ci sta quello da 200, poi ci sta quest'altro da 500, che fa insieme tutti e tre, insieme facciamo 750 dei contratti attivi, ma non sono questi quelli che io ho, perché se vado a vedere i miei partner, e praticamente ho 6 persone in prima linea, però ho il mio volume, e quello che io ho comprato nel tempo, anche se sono già esauriti grazie agli acceleratori, il 1.050, già di questi 1.050, 300 già sono stati completamente dati a 5 volte tanto, no, a 2 volte tanto, ma perché praticamente gli acceleratori me li hanno fatto avere. Ho solamente 5 prime linee, vedo, 5 prime linee attive, e però già così gli acceleratori stanno facendo veramente la differenza, è incredibile, e quindi sono entusiasta di questa attività. E tra l'altro la cosa bella è un bitcoin minato con energie completamente rinnovabili, dove siamo intatti grazie alla seconda più grande cascata al mondo, in America del Sud, dove c'è uno stato che è uno stato democratico, un paese, diciamo, del terzo mondo, dell'America del Sud, che si sta sviluppando proprio grazie a tecnologie come queste, e che lui ha addirittura reso assolutamente, diciamo, autorizzato, regolare, e quindi questa azienda ha tutte le autorizzazioni governative, paga tutte le tasse che deve pagare anche lei, ovviamente, e quindi diciamo che in realtà noi, facendo questa attività, aiutiamo l'ambiente, aiutiamo il paese del terzo mondo, aiutiamo la nostra famiglia, e aiutiamo gli amici. Questa cosa è nata per solidarietà, perché loro stavano facendo bitcoin con la corrente a 5 centesimi, quindi guadagnavano l'idea di Dio, 13 mila euro a bitcoin, il costo di produzione, tra le macchine e la corrente, tutto incluso, e quindi stavano guadagnando soldi. C'è stato, quando nel 2018 sono diventati una propria piccola industria a casa linea, nel 2018 hanno incominciato a fare sul serio, proprio a livello industriale, nel 2020 c'è stato il Covid, tutti hanno detto, guardate, non sappiamo cosa fate, ma vogliamo farlo anche noi. E così facendo, per l'interno, loro hanno detto, a bere, noi non sappiamo come fare, trovate una soluzione, vedete che dovete fare, perché noi abbiamo bisogno di essere aiutati, loro per aiutare i vicini si sono inventati, il meccanismo, dice guarda, facciamo così, noi mettiamo i soldi a fare questa cosa, voi mettete i soldi, mandiamo direttamente i soldi vostri, è un crowdfunding che organizziamo, ci comportiamo in questa modalità, quindi voi mettete i soldi, noi mettiamo i soldi e facciamo il lavoro, e prendiamo noi, voi mettete i soldi, noi facciamo il lavoro, e non facciamo a metà, pigliate il 75% voi, e il 20%, perché elevando il 5% di spese, e il 20% non vi va bene, meraviglioso, non è troppo sicuro, no, 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 va bene così, e quindi praticamente per solidarietà è nata quest'idea di condividere questa opportunità con gli amici, con i vicini, erano entusiasti, e quindi hanno detto, ma perché non condividere con il resto del mondo? Quindi da un discorso solidale è nata questa iniziativa, di cui ho avuto notizia dalla Svizzera, una mia amica della Svizzera, maestra di meditazione, amica del mio maestro di meditazione, mi ha avvertito di questa cosa, in anticipo, addirittura prima che partisse l'operazione ufficialmente in Europa, ho avuto modo di poter entrare, di poter far fare un'indagine su questa azienda, dopodiché poi ho fatto i miei test, nel frattempo poi un'altra seconda linea come me del leader che fa le Zoom, io sono seconda linea del leader che fa le Zoom, una ragazza molto simpatica che poi conoscerete, un'altra seconda linea, un architetto di Roma che ha dei piccoli alberghi in Brasile e quindi vive là fondamentalmente, si è messo in un aereo e è andato a controllare di persona tutti e ci ha mandato tutti i video, tutti i controlli fatti, anche quello che io non avrei immaginato di fare, anche lui è un aspetto di informatica e quindi ha pensato di tutto di più, controllare, compreso indizi bitcoin per controllare che veramente arrivassero i 20-25 bitcoin che loro prendono al mese facendo mining, voglio vedere se è vero dal mio indirizzo che io controllo e poi praticamente è andato a controllare persino i trasformatori che erano di potenza adeguata per andare a alimentare le macchine che loro avevano detto che stavano a lavorare. Insomma, gli ha controllato tutto. Io da allora ho incominciato poi a parlarne con gli amici più stretti e quindi oltre ad essere io e mia moglie abbiamo chiamato altri amici e abbiamo incominciato a verificare che effettivamente questo sistema di marketing è fantastico. Cioè non solo tu aiuti gli amici a guadagnare, ma addirittura si è presentato un meccanismo che è cinque volte più generoso di IFRS. Spero che questa cosa di essere stato utile e periente, a questo punto saluto tutti e vi saluto e interrompo il registrazione sperando che insomma abbia dato un piccolo contributo sulla semplicità, diciamo, che tipo di operazione e anche quanto sia semplice ritirare. adesso in teoria loro entro 48 ore arrivano i soldi ma in realtà non è mai capitato che arrivassero più tardi di 2-3 ore e quindi insomma anche questo è un pregio. Ah, non c'è nessuna commissione di prelievo e addirittura i costi di transazione sulla blockchain ce li pagano loro. Usano la BF20 per informare ma abbiamo la soddisfazione che non paghiamo nulla. Appena arriviamo a 15 dollari non a 100 dollari perché pagano loro, a 15 dollari possiamo ritirare. quindi vedete che è fatta proprio per aiutare anche persone del terzo mondo tutti i livelli da raggiungere sono molto bassi perché sono dimensionati per i paesi del terzo mondo insomma ci può entrare anche con solo i 50 dollari è una cosa incredibile se tu metti 50-100 milioni o 50-100 dollari si trattano la stessa maniera guadagni uguale, la stessa percentuale senza nessuno. Insomma io sono entusiasta di questa operazione spero che questa operazione vada avanti fino al 2140 dove sicuramente si dovrà fermare perché finirà il mining di Bitcoin e quindi il mining cioè il supporto delle transazioni di Bitcoin compensato alla rete stessa con oltre 200 mila euro a ogni blocco che tu riesci a chiudere e questa cosa dovrà finire perché diciamo è tarata per finire nel 2140 e quindi penso che questa qui finiremo. Ok? Un abbraccio a tutti!